Faggia, unizia etnica dei culattori. L'omosessualità in realtà è un disagio. Mi sono roccio di merda. Senza offese per i gay, eh? A questi cessi umani, a questi aborti di natura, immondi. Tu si righiude. No, no, no. Questo ritiro da che che steri. L'omosessualità è una delle tante malattie che contrae l'essere umano. È una malattia proprio. Volei l'anatema della chiesa e la chiesa tante. Che vanno atterrate, annientate. Quindi viva la famiglia a farsi che. Io dico a me fate schifo come donne perché la vostra intimità. Deve fare la casa. Si veste da donne e credi di poter dire niente quello che vuole. Immigrati. Parliamo di persone malate. Grazie.